Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato sempre ed è proprio su questa frase di Ippocrate che si basa la filosofia della farmacia battaglia che ha voluto essere già dall'inizio un referente per garantirti tutti i servizi di autoanalisi, glicemia, emoglobina, esame audiometrico, screening delle funzioni cognitive, consulenza dermocosmetica, eventi organizzati perché il nostro interesse e il nostro piacere è semplicemente uno, quello di prenderci cura della tua salute e del tuo benessere. Farmacia Battaglia!